eccoci tre giorni rimasti ma qualcosa adesso ah la batteria no no fermi andiamo amici facciamo un po di views e big money dai ma ci si crucia guardate amici stai il pronendo? si si guardate amici i laser wow come si abbassa? no non ci prova no non spingetemi qui mi cedono come ci si abbassa? non ci credo oddio no mi ha buttato la camera e qui ce l'ho ce l'ho ce l'ho la camera oddio oddio questo è stato amici ma dove sono gli altri? non lo so sono morti non li vedo oh no no ah è gestato almeno si si no 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 l'ho fatta la presa wow oddio amici che cos'è questa bestia è scompatta avete visto? è lo spirito di smagol ahahahahah insomma ci ha inventato i nostri non so se si possono riuscire a sparare queste cose ah fuck mi sa che è morto qui un compito pesa 6 2 2 5